Lutto nel mondo del sindacato e non solo con la morte all'ospedale di Sant'Orso di Fabiola Carletto, per molto tempo responsabile dell'ufficio bassanese della CGL e già membro della segreteria provinciale, ben conosciuta in città. Persona capace, appassionata del proprio lavoro, che svolgeva con tenacia, eppure con grande sensibilità, onestà, che mostrava nel portare avanti battaglie epocali, come quella legata alla storia della Yarsiltal. La ricordiamo proprio per la sua capacità di dialogare con tutti, con quell'intelligenza vivace che la contraddistingueva. La data dei funerali non è ancora stata fissata. Fabio la lascia al marito Paolo e il figlio Mattia.